Pat Patterson è noto tra chi l'ha conosciuto per la superba capacità di scrivere match e finali di rivalità dal grande e smisurato impatto emotivo. Un match che ci fa piangere, che ci fa palpitare, che ci fa immergere nell'azione, che ci fa arrabbiare, che ci fa incazzare, che ci fa ridere, che ci fa abbracciare il vicino. Ecco, Patterson è stato capace di creare scenari che ci hanno portato a tutto ciò, e dal suo talento come sceneggiatore ne hanno beneficiato in tantissimi, da Hulk Hogan a Macho Man Randy Savage, sino ad arrivare a combattenti di una o più generazioni successive, come Court Angle e Chris Jericho. Quello che pochi sanno, però, è che Patterson ha avuto in questo campo un maestro straordinario, e cioè l'organizzatore di eventi Roy Shire, per il quale Pat ha spesso lavorato in California negli anni in cui calcava il ring come lottatore. Di questo incredibile impresario sono rimaste sul web poche testimonianze di rete, e non fa molto figo cercarle. Ma la sua federazione, la Big Time Wrestling, tra il 1960 e il 1980, è stata tra le più rivoluzionarie e avanguardiste di sempre. C'è chi addirittura ritiene che la trovata di Patterson, relativa alla creazione del Royal Rumble Match, una paternità che gli viene unanimamente riconosciuta, ecco, c'è chi ritiene che in realtà sia stato un po' un rimischiare le carte di quanto già svolto precedentemente proprio nel territorio amministrato da Roy Shire. È un Roy Shire che ci tengo a ricordarlo, tra l'altro il suo motto era azione, mosse spettacolari e match realistici. Questi erano i tre cardini, le tre direzioni irrinunciabili della sua proposta, e direi che Patterson le ha sicuramente fatte sue. Una Patterson che ne ha studiato le strategie, che ha misurato i tempi del suo boss e anche quelli del capo Booker, Ray Stevens, con il quale spesso ha fatto coppia, tra l'altro, nel ring, e poi le ha addirittura portate ad un ulteriore livello di profondità. E non è un caso che in queste ore, quelle successive alla sua morte, praticamente tutto il mondo del wrestling che ha contato qualcosa negli ultimi 40 anni, gli stia rendendo omaggio e onore. Perché di gente come Pat Patterson, beh, il mondo del wrestling ne ha vista davvero, davvero poca.